Bene la persona, magari anche una base e basta, insomma per dare un po' più di... La base è sempre la cosa più importante, diciamo che una volta che si fa una base perfetta, che ha una pelle morbida... E la dobbiamo alimentare, e quindi la nostra pelle... ha bisogno di alcuni strumenti, proprio per essere ogni giorno luce vera per noi e per gli altri. Perfetto, non lo fare per noi e per gli ascoltatori, farlo per quelle due ragazze giovani. Quando le trovi due ragazze così giovani che ti ascoltano? Le troverai in Alaska. In Alaska ci sono... Ma non so perché deve parlare dell'Alaska. No, 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 perché è in Alaska. E' il discorso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gli investimenti socialmente responsabili utilizzano nella selezione dei titoli sottostanti unitamente all'analisi finanziaria tradizionali criteri così vecchi... Perché mi fa commuovere questa unione tra tutti questi artisti. Andate a vederlo, è super bello. Quando dico questo, dico soltanto orientate nel senso di un aiuto. Lo spiego meglio. Ci sono famiglie che sono benestanti. Ma fin... ... Sì, mi sono fatto chiamare da mia moglie 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 ... ... ... Il numero di vittime sale 8131. Il numero di vittime sale 8131. Il virus continua a mettere vittime in Cina, 813 d'alto giornato. Sui casi in Germania, due in Spagna, salvano i suoi punti e gli aspettati sull'area del bacione a Ferraro, con la barba 3 da 7 cento. Proprio tutto a prezzi stracciati. Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi. Globo, grande nella scelta, grande. Globo, grande nella scelta, grande. Este è un futuro I salti che ha fatto così, che è gosta molto,themesser lo Can sé, che è stato molto amichline. L' callamento è arrivato nella scelta. 可以? Lo canals! Lo canals! Sì, è un po' di più, è un po' di più Alla storia, al 66, al 66, al 66 è vinto, non mi guardo un cuore di vola su, perché Dio come ti amo. E' un pochino di educazione, la tua foto è partita, buongiorno e buonasera, e la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze. E' un pochino di educazione, la gratitudine e le circostanze.